Con l'arrivo del weekend di Ferragosto scattano in tutta la provincia i controlli delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza sulle strade e anche in città. Non mancheranno naturalmente i posti di controllo sulle strade statali e provinciali, anche con le apparecchiature autovelox e con gli equipaggi di polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza provvisti di etilometro. Da questo punto di vista i consigli principali sono quelli di tenere comportamenti prudenti sulla strada, a cominciare dal controllare la velocità di marcia e al non mettersi alla guida dopo aver bevuto. In città sono stati predisposti irregolari servizi di pattugliamento, anche per evitare episodi di schiamazzi e rumori notturni, argomento su cui il questore Emanuele Ricifari è intervenuto in più occasioni nel recente periodo. Proprio al questore Ricifari abbiamo chiesto alcuni dettagli sui servizi e anche dei consigli per i cittadini in vista delle vacanze. Innanzitutto io dico sempre che la sicurezza è partecipata, noi possiamo essere con le nostre pattuglie, noi l'arma dei carabinieri, i colleghi della finanza in giro e verificare presenze su strada. Ovviamente l'importante è che i cittadini siano i primi a preoccuparsi di avere comportamenti sicuri. Comportamenti sicuri significa non soltanto, per esempio, mettersi d'intesa, informare le persone di cui ci si fida e che abitano vicine, che siamo assenti, quindi qualunque rumore, qualunque anomalia deve essere segnalata alle forze dell'ordine.